Dati sta per Digital Agriculture Technologies for Irrigation Efficiency, un progetto che tratta l'uso razionale della risorsa idrica in agricoltura finanziato dal programma europeo PRIMA, nato per sostenere idee sulla gestione dell'acqua nelle culture nell'area del Mediterraneo, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Bioeconomia. Alla tenuta di Alberese sono stati presentati i risultati ottenuti grazie all'impiego di nuove tecnologie per la riduzione del consumo idrico nel settore agricolo. Il programma PRIMA è un programma euro-mediterraneo finanziato dalla Commissione Europea e da 19 paesi del Mediterraneo che intende promuovere soluzioni concrete a favore degli operatori, delle aziende, dei produttori per una gestione efficiente delle risorse naturali, della risorsa idrica e per una produzione di qualità. Si sono sperimentate una serie di tecnologie di agricoltura digitale che trattano diversi sistemi, da droni con diverse camere multispettrali per spettrali, sensori meteo a terra, app per telefonino e sistemi di irrigazione intelligenti. Tecnologie volte a comprendere da una parte i reali stress idrici delle piante, dall'altra cercare di ridurre l'irrigazione e vedere se comunque a livello produttivo e quantitativo si ottengono dei buoni risultati. Già dai primi due anni abbiamo visto che già con una riduzione del 70-75% di acqua si ottenevano produzioni uguali, cioè stessa produzione e qualità anche migliori per quanto riguarda sia il pomodoro che il melone. Quindi diciamo che questa riduzione di acqua non ha creato disagi per quanto riguarda l'agricoltore. L'equivalente di un risparmio energetico ha a fronte di una buona qualità, tutto con l'obiettivo di realizzare, oltre alla ricerca, uno strumento fruibile dalle imprese agricole. Uno degli obiettivi principali non è solo quello tecnologico e di ricerca, ma è quello di creare questi pacchetti a basso costo, flessibili e fruibili, soprattutto per le medie o piccole aziende agricole. Il progetto Dati si estende su cinque paesi, Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Marocco. È giunto al secondo anno di sperimentazione in attesa di scoprire la giusta acqua per la produzione di pomodoro, melone e vite. 3.300 ettari, su cui il risparmio idrico è già una realtà in Maremma, li gestisce sulla sponda nord dell'Ombrone il consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Si può fare di più, però, per ridurre il consumo di una risorsa sempre più preziosa. Su questo fronte si dirigono i progetti che guardano alla possibilità di ampliare o realizzare laghetti. Abbiamo il nostro impianto storico, i 3.300 ettari, subito di là dall'Ombrone. Stiamo cercando di arrivare anche a un impianto qui, sempre dall'Ombrone risparmiando acqua dalla parte in destra e investendo in sinistra. Però abbiamo anche degli impianti da realizzare nel Senese e noi puntiamo molto anche ai laghi. Per me sarebbe importantissimo anche San Piero in Campo. San Piero in Campo è un lago abbandonato che si spera di ritirare fuori. Siamo insieme all'autorità di Bacino, a tutti i sindaci della parte del Senese, però anche in quelli grossetane. Si tratta di impianti di cui si parla da anni, ma ancora sembrano essere solo sulla carta. Per quanto riguarda il Gretano e il Lanzo abbiamo già i progetti e dobbiamo completare con il Ministero la ricerca dei finanziamenti. I progetti sono già pronti per essere finanziati. In lago di San Piero in Campo c'è una storia molto particolare che dobbiamo chiarire anche con i sindaci di Siena. Intanto è già assegnato il progetto per costruire l'impianto all'ex diversivo. L'impresa che ha già vinto sta facendo l'inizio dei lavori e implantare il cantiere. Nascerà un lago nel diversivo di fondamentale importanza per la zona di Cernaia. Zona dove non c'è acqua e non si può fare assolutamente buchi per via che siamo vicini al mare e di conseguenza oltre ad essere vicini al mare si richiama il cuneo salineo e l'acqua salata.